E Notizia, con presentazione di KFC, Pizza Hut, Subway e Maduro & Curios Bank. E Notizia, con presentazione di KFC, Pizza Hut, Subway e Maduro. E Notizia, con presentazione di KFC, Pizza Hut, Subway e Maduro. E Notizia, con presentazione di KFC, Pizza Hut, Subway e Maduro. E Notizia, con presentazione di KFC, Pizza Hut, Subway e Maduro.